no ragazzi sono delle merve ma mi piace cosa perdere buongiorno a tutti ragazzi è il 5 marzo e faremo una bella sorpresa alle nostre donne ma bella eh si va alle ferme e poi si va a dormire fuori con un cilino tutto tanta roba tutta una sorpresa loro non sanno niente noi sappiamo tutto forse ci vediamo in viaggio ciao ciao ecco le vittime ciao non so se sopravviveremo a questa cosa sono mari ciao vai facciamoci di male buongiorno buongiorno pronti per il viaggio nel tempo ciao sono Gianluca non sono un alcolista lei è un alcolista si chiama Ginevra dai lei è buongiorno io sono Martina non bevo da 8 ore forse però ora recuperiamo tutto ci vediamo in viaggio oh 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 siamo arrivati mi sembra io spero che si sia qua soltanto nel parcheggio perché non sono pronta a fare quello che ho visto nel cartello ti devo consegnare una cosa io tutta questa roba è per te e c'è tutto ma proprio veramente c'è tutto quello che ti serve ma proprio tutto ah surprise paura è la prima sanzia da fare che bella sei contenta? ma la vostra tantissimo c'è i peli non c'è il ciclo? no ci vediamo dentro forse vediamo perché l'umidità è un'umidità è un'umidità è un'umidità è un'umidità ciao 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 buongiorno ma è un'umidità bellissimo venite seguitemi andiamo a fare il check-in ascensore ahahahah oh dio ti ritrovarono ah tin 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 sai vale ti hanno spiegato tutto 상o grazie ma anche voi c'è no ahahahah 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 seconda sorpresa andara andara bravi tutti bravi Bravi, bravi, bravi soprattutto bilanzati E' follia questa, è follia pura Io sono senza parole Bravi, belle, ma soprattutto ho fatto due belle Ma quindi non ho capito, ma dove si mangia? Ci vediamo a cena, ancora non sa dove è Ciao Ciao Montepulciano Io non so ancora cosa aspettarmi Chissà, chissà, chissà Non la sentite la vitalità della piazza? C'è un casino, mi sento, mi lasco a passare Allora? Infatti mi trovo più la telecamera Allora? C'è una dei te Ma è questa sorpresa così Arquitettono mi ha studiato Ci vuole anni e anni di esercizi Nessuno riesce poi a farlo come me è matto Andiamo a trovare qualcosa Andiamo Ehi, ehi, ehi Nooo Nooo, ma state grandi, ragazzi! Facciamo più il bisogno, eh? Un'altra! C'è un freddo Simone! Ora basta, eh! Ora si mangia, si dorme, le sorprese sono finite! Anche troppe! Anche troppe! Se entra nel vlog, guarda! La cena di oggi è finita! Nooo! Va bene! Ciao a tutti! A domani! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Nuova avventura di oggi! Probabilmente Pienza, però... Oh! C'ho fame! Ci abbiamo solo le pimples! Vale, come stai? Vale, questo posso cosa fare? Scusate! Cosa stai facendo? Colanzione! Ah! Mi stai facendo un cadotto! Non saprà tutto il mondo! Lo saprà tutto il mondo! Ora siamo in macchina e ce ne andiamo! Sì, ci siamo rotti un gazz! Va, Pienza! Come c'è il peorino? Andiamo, andiamo! Guarda un po', che ti si può lasciare un attimo! Ti salutano tutti! Noi dai! Ti senti? Ti senti? No, sono Renzo! Sono cognato! Cognato? Cognato! Oddio! Da' الطi ad sono... ... ... ... ... ... Qualcuno si sta scappando, guarda, guarda, guarda. Chi? Eccola! Chi è lei? Chi è lei? Chi è? Un'intrusa! Pianza Vista e adesso si va verso la Cappella della Madonna di Vitaleta, posto simbolo della Val d'Orcia. Seguitemi, andiamo! Sì, arrivati! Se li tiro un sasso e lo prendo, sarà sfortuna o sarà bravura? Entrambe, entrambe! Così come è finito febbraio con me e lei, preannunciando questo weekend, il weekend c'è stato, meglio del previsto, fotonimo, una cosa... Salutiamo la curva e ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao! Wow! Salve! Dopo una lunga malattia febbrile, sono uscito, sembra di essere in un mondo tutto nuovo. Sei uscito? Non uscito. A me mi sembri di nuovo dentro quattro pareti comunque. Non so perché. Perché? Perché? Perché, guarda, guarda, una, due, tre, sullo specchietto morto, lì, anche la star schifosa. Andiamo. Ciao! 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 Sono in coda al semaforo. E' abbastanza impegnative. E' abbastanza impegnative. questo della cacasona. E adesso ci facciamo una bella permanente. Dopo il lavaggio. Il lavaggio è finito, adesso aspiriamo e togliamo gli ultimi rimasugli di merda. E' incrostato tutto. E ora qui, sembra nuova e ancora fa cacare. Penso un po'. Io ho aspirato tutto. E che cazzo ti faccio? E' incrostato tutto. Ultima passata, sì, e poi dritti a fare una bella doccia. La nostra giornata finisce qui. Ora d'aria presa. Ciao! Che fonte li mandi? L'ho trovato per strada e ha detto vabbè, lo prenderò. Comunque oggi, non mi ricordo che giorno è, siamo al Mulinaccio, zona Scandicci e dopo andiamo a farci un pranzettino con i nostri amici. Seguitemi. Un mulinaccio, un mulinaccio, un mulinaccio. Sono arrivati a Mulinaccio. Sempre bellino. Mi piace sempre molto venire qui. Andando ad esplorare il mulino, sempre che non ci frolli addosso. Un fuori qui. Mi sembra di essere Lara Croft nel Tempio Maledetto. Vorrei proporre al comune di Scandicci di portare delle scimmie qua per aumentare ancora di più l'impatto. perché con delle scimmie sarebbe al bacio. Immagina, sarà lì all'angolo. Ehi! Cosa fai? Mi hai fatto paura. Mi hai fatto paura. Cosa fai? Guarda un po' le situazioni, un po' di fuori. Io c'ho fame ora. Anche io, andiamo. Andiamo. Andiamo a mangiare. Ciao. Adesso vi presenterò un amico di infanzia di Ale. Ale! Ciao, come stai? Bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Per il fatto che non ci vediamo. Siamo Anselmo a mangiare da amici. Amici? Hai bevuto qualche cosa? Almeno? La futura moglie. Anche lei e Nadia? Basta. Presento tutti. Allora, lei è la Dede. Poi abbiamo la Nadia e Izzo. Che però adesso sono quasi. Il Grillo. Dani. E poi dentiera d'acciaio. Eccolo! Il Leo. E poi di là abbiamo il reparto giochi. Con la Gegia. Ciao. L'arme. Diciamo che prima dobbiamo un po' scioglierci e poi le prossime volte andranno meglio. È decisamente meglio. Si chiude il mese di marzo così. Un po' sotto effetto di alcol in compagnia. Lo chiudiamo così. E un po' di zuccheri anche. Sì, effettivamente. Ciao! Ciao!